Si può, si può, signore, signori, scusatevi, se adesso ti presento io sono il prologo. Poiché mi scena ancora le antiche mosche, mentre l'attore in parte vuol riprendere le declusanze che a voi di nuovo inviami. Ma non per dirti com'è prima, le lacrime che mi arrestano sono false degli spasili e nel nostro martir non ha l'aroma a terri. No, no, l'autorio ha cercato di invece tingervi uno squaccio di vita e per massima solo che l'artistia un po', e che per gli uomini scrive le deve, che nell'albero mi ispirava sì. Un nido di memorie intorno all'anima atera, la pura guna di lavoro e la pura città con la pura e la pura la pura e la pura Il tempo gli battevano, dunque, vedrete amare, siccome sono gli esseri umani, che prende in odio i tristi frutti del carlo di spasini, poi in odio il fredde e risoncini che è. Gravori, io tosto, che le nostre nuove regattame, mistrioni, le nostre adive così velate, voi chiesti a uomini di carne e gossa, e che di questa volta non mondo, a dare voi, speriamo l'evere. Il concetto vi dì sì, ora ascoltate come gli svolto, andiamo, incominciate. Bravo!